CIVUA CIVUA si definisce rinnovabile da sempre. È un gruppo industriale totalmente di proprietà pubblica della regione autonoma Valle d'Aosta, leader nella produzione da fonti rinnovabili. Siamo il quarto produttore di idroelettrico a livello italiano e il quinto da fonti rinnovabili. Abbiamo oltre 1,2 gigawatt di potenza di produzione di energia elettrica e produciamo ogni anno oltre 3 miliardi di kilowattora totalmente rinnovabili. La Compagnia Valdostana delle Acque si è sempre occupata da grande attenzione alle manutenzioni e alla salvaguardia dei propri impianti. Dobbiamo conoscere bene lo stato di salute dei nostri gruppi di produzione idroelettrica. E qui entra in gioco proprio FM, perché al di là dei numerosi sensori delle diverse tecnologie che abbiamo installate di FM per il monitoraggio dei flussi, per il monitoraggio delle temperature, abbiamo trovato con i FM un'ottima collaborazione per quanto riguarda i sistemi di vibrazioni. Prendete in considerazione una centrale. Le centrali idroelettriche sono in caverna, sono in luoghi umidi. Spesso nel clima alpini raggiungiamo temperature molto fredde e in questi anni non abbiamo mai avuto problemi con questo tipo di tecnologia. Quindi siamo molto soddisfatti. Con i FM collaboriamo ormai da diversi anni in modo proficuo e già su 22 dei nostri impianti abbiamo scelto le loro soluzioni chiave in mano per quanto riguarda l'installazione dei sistemi di controllo e monitoraggio delle vibrazioni assolute. Ed in alcuni casi abbiamo anche testato le loro soluzioni per quanto riguarda il monitoraggio di processo mediante protocollo IO-Link. Noi riusciamo così a raccogliere tutta questa serie di dati e portarli e indirizzarli sul sistema Moneo grazie al quale sostanzialmente i nostri tecnici riescono ad analizzare real time in modo continuativo tutti quelli che sono gli andamenti di trend vibrazionali. Ricordiamo che grazie all'analisi vibrazionale riusciamo a riconoscere sul nascere un potenziale malfunzionamento che se non approfonditamente studiato potrebbe anche portarci a un guasto nel macchinario e quindi ad una perdita economica. La scelta di andare a uniformare tutti i sistemi di controllo e monitoraggio con la soluzione IFM è dettata dall'affidabilità dimostrata nel tempo e anche dalla migliore gestione di quella che è la ricambistica a magazzino. Sicuramente avere a che fare con un fornitore che non si limita a fornire un prodotto ma che riesce a dare un chiave in mano quindi a garantirti la qualità di un prodotto ma darti anche la possibilità di far installare questo prodotto e poi anche successivamente darti un supporto durante l'esercizio delle tecnologie è sicuramente un supporto che non tutti i fornitori possono dare. Grazie